buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua insieme per un altro fantastico video allora sarà brevissimo scusate se l'inquadratura non è la solita perché sto usando l'iphone al momento per essere velocissimo ma vi devo segnalare una cosa ma fantastica ma huawei ha proprio fatto a samsung è cavolo no non è bellissimo ho appena visto il nuovo huawei mate x ragazzi è stato presentato al mobile world congress 2019 ma è una cosa fantastica ma è una cosa fantastica sono stati un molto un passo avanti a samsung perché samsung con il suo fold comunque sembra un nokia communicator e quindi e soprattutto sembra un mattoncino allungato con uno schermetto molto piccolo quando è chiuso invece qui wow abbiamo uno schermo veramente fantastico un dispositivo che è un 6.1 pollici 6.2 pollici aperto diventa un 8 pollici poi veramente iperfino non ha la fotocamera anteriore quindi bisogna fare bisogna girare come il vivo il dual display però comunque sia wow fantastico come al solito ragazzi molto furbi non ce lo fanno vedere non ce lo fanno toccare con mano bisogna vedere quando si apre se si vede la riga se l'effetto del display va per se andiamo a perdere qualità nel display questo è molto importante non si riesce a capire da dalle inquadrature da lette ricambi bisogna toccarlo con mano però wow io sono rimasto scioccato fantastico veramente bello considerando che samsung lo proporrà ad aprile a 1900 praticamente a 2000 euro ora non so huawei a quanto lo metterà però sicuramente messi a confronto huawei mate x vince assolutamente fatemi sapere voi cosa ne pensate ma io dico wow fantastico cioè lo devo avere lo voglio lo voglio ciao ragazzi